Il mio rifugio sei, tu mi preserverai. Dal mare mi circonderai, lo so, con canti di libertà. Il mio rifugio sei, il mio rifugio sei. Tu mi preserverai, dal mare mi circonderai, lo so, con canti di libertà. Se un giorno temerò, avrò pace in te. Il mio rifugio sei, tu mi preserverai. 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 Io avrò pace in te. Il mio rifugio sei, tu mi preserverai. Il mio rifugio sei, tu mi preserverai. Il mio rifugio sei, tu mi preserverai. Il mio rifugio sei. Tu sei stanco sei, tu sei lontano. Tu sei vicino a tutti coloro che ti invocano. Così è scritto. E noi citiamo questi versi importanti. Signore, stai con noi stasera, guidaci in ogni cosa, nei cantici. Vogliamo cantare con tutto il cuore, l'anima e la mente. Pregare ed ascoltare la tua parola di verità che tu mandi dal cielo. Ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo che è benedetto in eterno. Amen. 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 Gloria a Dio. Cantiamo un altro cantico. Quarantasei? Quarantasei. 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 Alleluia. Cantico quarantasei. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Sono qui davanti a te, ai tuoi piedi, oh Padre mio. Non sono degno, sì lo so, ma Gesù me preparò Vengo a tenere il nome suo, per il sangue che versò Lava ogni mio peccato, che la vita mi dolore Padre ascoltate questa preghiera, del riesco che senza te Nel mio cuore non c'è luce, tutto è buio intorno a me Tu che sei l'onipotente, a te offro il cuore mio E che so che in mano tua, come il sole esplendere Sono qui davanti a te, ai tuoi piedi oh Padre mio Per notare il nome tuo, perché degno sei il Signore Gloria a Dio, gloria a Dio, grazie Signore Un'altra preghiera, qualcuno che vuole pregare? Santo sei Signore, santo sei Signore Ti adoriamo, ti adoriamo, ti benediciamo Signore Ammè Amma di Dio, Signore, come lo ringraziare, Padre Santo Perché anche oggi stiamo qui, Signore Lo dando il tuo santo nome, Signore Oggi tutti quanti qua riuniti, Padre amato A un quelli che non hanno potuto venire, che stanno in red Signore, che ascoltano, Signore, quella parola che tu hai per noi oggi, Signore Vogliamo mettere davanti a te, Signore, ogni pesantezza Signore, ogni preoccupazione, Signore che sei afflitto in questa settimana In questi giorni precedenti, Padre Santo E vogliamo dare la libertà all'Espirito Santo Tuo, Signore Che sei Signore in questa sala Che trasformi i nostri cuori, Signore, la nostra mente Che rinnova, Signore, ogni giorno per la tua parola, Signore Te ringraziamo per questa parola, per i culti, Signore Per ogni cosa, Signore, per le preghiera In il nome di Gesù, che tu hai benedito in eterno Ammè 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 Pace, pace, pace C'è la sorella Margherita, Giulia, la sorella Francesca Ma all'improvviso siamo un bel gruppetto stasera Gloria a Dio, siamo grati e riconoscenti al Signore Cantiamo un altro bel cantico Io volevo cantare, se permettete, il 97, quando vedo la tua santità Ci porta un po' più vicino al Signore questo cantico 97 E gloria a Dio, gloria a Dio Quando vedo la tua santità Quando ammiro la tua verità Perché intorno a me diventa ombra Nella luce tua Nella luce tua Signore Quando ho trovato la via al tuo cuore Tu mi hai dato gioia e vero amore E Dio, gloria a Dio E Dio, gloria a Dio E Dio, gloria a Dio Per che io vivo Per adorarti, Signore 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 la ragione per cui vivo è adorarti Signor. Sì, vieni sorella Margherita che dai una mano anche alla sorella, pace, 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 e bacio entusiasmo stasera, che non è il 97, ricantiamo questo cantico? Quando vedo la tua santità, quando ammiro la tua bellà, quel che intorno a me diventa ombra della luce tua, Signor. Quando ho trovato la via al tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore, ed io scopro la vera ragione, perché io vivo. Per adorarti Signor Per adorarti Signor Per adorarti Signor Per adorarti Signor Gloria a Dio Cantiamo Emanuele, Dio con noi, e diceva qualcuno oggi ha scritto che se Dio è con noi, Emanuele, allora possiamo stare tranquilli. Emanuele Abbiamo Dio dalla nostra parte, Dio dalla nostra parte, Dio dalla nostra parte, Amen Amen 48 48 Emanuele 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 Dio è con noi, Dio è con noi, dentro di noi, il nome suo è male, e manuele Emanuele 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 Il nome suo Emanuele Io e con noi dentro di noi Il nome suo Emanuele Gloria a Gesù, gloria a Dio Sei benedetto Padre Celeste, sei meraviglioso e glorioso Gloria a Dio, gloria a te Signore Gloria al Signore Gesù Cristo Gloria a Dio Grazie Signore Gesù, grazie Gesù Ti adoriamo Signore, ti benediciamo Glorioso sei Gesù Sei meraviglioso Signore Sei glorioso, sei maestoso Gloria a Dio Gloria a te Signore, gloria a te Signore Gesù Gloria a Dio Benedetto sei Signore, grazie Signore Un'altra preghiera pure, se c'è un'altra preghiera Buono che preghiamo stasera Gloria a Dio Grazie Signore Gesù Grazie Gesù, grazie Gesù Gloria a Dio Gloria a Dio Gloria a Tommy oria a Dio Grazie a tel Grazie a Dio Grazie, grazie a Gesù Gloria a Dio Grazie a Padre Grazie a tu misericordia Grazie a tu misericordia Grazie a per sempre Alleluia Padre adoriamo in questa ora Padre bendiciamo tu divina presenza oh Dios Padre te exaltiamo Padre reconocemos tu poderio alleluia grazie a Signore perché il linaje di tu prado siamo oh Dios grazie a Signore amato perché siamo apartati per te Espiritu Santo grazie a Signore perché tu sei digno oh Dios Padre tu eres nostro dueño Adonai te reconocemos Dios oh exaltiamo tu nome te invociamo in questa ora Espiritu Santo invociamo tu divina presenza oh Dios manifiesta tu poder mi rei derrama tu Espiritu Santo sobre nosotros Padre abbiamo hambre e sed di Padre abbiamo hambre e sed di Padre in il nome di Gesù adoriamo tu presenza in questa ora oh se decontamina l'aria ora in il nome di Gesù declaro cielo abierto en questa ora in il nome di Gesù cielo abierto in il nome di Gesù di manera che la presenza genuina di Gesù Reserve un nome di Gesù Gesù Espiritu Santo di I ben adoriamo rei che exaltamo aleluia manifiesta te Dios derrama tu Espiritu Santo aleluia 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 Padre ti adoramos Te exaltiamo, Gesù di Nazareth, alleluia Te decimo che tu eres digno Che tu eres digno, che non c'è altro come tu, Espiritu Santo Alleluia Santo, 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 Santo Digno eres, cordero immolato Digno eres, cordero immolato Digno eres, cordero immolato Tu eres, Santo, Tu eres, Santo Y nosotros decimos, Santo Como los 24 ancianos dicen, Santo Nosotros decimos, Santo, delante de tu presencia en esta hora, oh Dios Oh, los ángeles hacen silencio Los ángeles de Dios riman en cito Alleluia, porque tu abro tu boca en cuesta hora E lo del nome del Signore, alleluia Nosotros decimos, Santo, Santo, Santo Santo davanti dal trono Noi diciamo, Santo, Santo E noi incliniamo e diciamo, Santo, 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 Santo Santo, Santo è il Signore, alleluia Noi facciamo homenaje davanti a la presencia del Signore, alleluia E ci incliniamo in questa ora, Espiritu Santo Incliniamo in nostro cuore davanti a la tua presencia, Signore Reconociendo che tu sei digno, che tu sei digno di tutta la lode Te incliniamo, re, alleluia Te incliniamo perché tu sei re, perché tu vive e regna, Espiritu Santo, alleluia, alleluia Te adoriamo, grazie Oh, Signore, ti adoriamo, alleluia Oh, Padre, siamo affamati da te, Signore mio Abbiamo fame, abbiamo fame da te, una fame insaziable, Espiritu Santo Una fame insaziable dalla tua presenza, alleluia Gloria a Dio Grazie, Signore mio, perché tu sei qui, alleluia Grazie, Signore mio, perché tu hai, Espiritu Santo, il controllo da tuo popolo, alleluia Grazie, Signore, perché tu ci abbraccia con la tua presenza, Gesù, alleluia Grazie, Signore, grazie, Padre, perché te fa sentire Grazie, Signore mio, perché in ogni momento della nostra vita, Espiritu Santo, tu sei, alleluia Grazie, Signore, perché non fa sapere che tu sei in ogni momento della nostra vita, alleluia Grazie, Signore, Signore, per la infinita misericordia che hai con i tuoi figli, Padre Grazie, Signore, anche noi non siamo merecedori, Espiritu Santo, tu ci fai, Espiritu di Dio Grazie, Signore, grazie, perché te prende cura di noi ogni giorno Grazie, perché ci guarda con occhi da piedà e di amore, alleluia Grazie, perché ci hai un amore infinito, perché ci hai un amore agape hacia tu figli, Espiritu Santo, alleluia Grazie, Signore, oggi incliniamo davanti da te, Signore mio, reconociamo che tu sei re, alleluia Grazie, Signore, grazie, Signore, abriamo nostro cuore davanti da tu presenza, Padre mio, alleluia Grazie, Signore, grazie, 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 grazie Grazie, Signore, Signore, perché non c'è nessuno come te, alleluia Grazie, Signore, grazie, 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 Signore, perché tu sei buono, Espiritu Santo, alleluia Grazie, 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 Signore, perché ecco Che la nostra bocca, invociamo la nostra, tu presenza, Signore mio, oh, e te possiamo trovare subito, grazie, perché sentiamo subito la tua presenza e non fa capire che tu sei qui, che tu sei qui, mezzo a noi, grazie, perché non fa sentire che tu sei qui, a canto nostro, alleluia, 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 grazie perché tu presenza solenne qui, in questa casa, alleluia, grazie, 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 perché mai vieni a meno, grazie, Signore, perché quando arriva la tua presenza, alleluia, le cose sono cambiate, grazie, perché c'è liberazione, quando arriva la tua presenza, grazie, perché quando arriva la tua presenza, c'è guarizione, alleluia, grazie, perché c'è liberazione, messo dalla tua presenza, oh, grazie, 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 grazie. grazie Gesù temperamento forte allora qualcuno vuole ringraziare il Signore non voglio togliere questa opportunità di dare gloria a Dio chi vuole ringraziare il Signore grazie Gesù gloria a Dio gloria a Dio gloria al nome del Signore gloria al nome del Signore gloria a te Signore Santo gloria a Dio ancora questa sera voglio ringraziare il Signore notarlo, benedirlo, glorificarlo perché veramente la sua benedizione nella mia vita è stata tanta soltanto io e il Signore sappiamo in che condizione stavo e lui nella sua infinita amore, nella sua grande misericordia è venuta, è sceso fin qui su questa terra, è venuta veramente a sollevarmi da quel bar ad un'altra in cui mi ritrovavo mi ha fatto vedere la luce, la via e questo mi disse se mi vuoi seguire questa è la via prima ancora me l'ha fatto vedere nella mia condizione di peccatrice perché mi sentivo giusta e non riuscivo a capire perché tutto mi andava così storto così male gloria a nome del Signore io credevo che Dio esisteva da alcuni anni prima pensavo che Gesù è stato un uomo meraviglioso dopo invece nel 90 89-90 c'è stato un fatto familiare che ho visto veramente che Dio esisteva perché si prese cura di mia madre alla fine di quell'anno negli ultimi 20 giorni della sua vita in quella condizione esasperata di quella malattia e c'era una pace in lei una serenità che tutti i dottori in ospedale non si riuscivano a spiegare perché altri ammalati nella sua stessa condizione non ce la facevano a resistere e lei invece ha avuto quella pace solo perché una notte dissi perché lei ha questa agonia questa sofferenza questo calvario lei che ha sempre creduto in te ha sempre pregato per tutti quanti noi perché sta così mi butto fuori da quella stanza io per due mesi ho fatto la notte in ospedale per mia madre mio fratello stava di giorno sì io non mi butto fuori da quella stanza non ci potevo stare ma da quel momento quando poi a un certo punto sono rientrata da quel momento c'era veramente una serenità nel suo volto qualcosa di di meraviglioso allora ho capito che il signore mi aveva aveva ascoltato le mie parole allora sapevo che Dio esisteva veramente che era però ci sono avuti sei anni prima che facessi un passo e ho camminato per le mie vie facendo le mie scelte pensando di fare delle scelte giuste non ho fatto del male a nessuno se mai me lo sono fatta a me stessa chiedendo scelte giuste ma non è stato così il signore ha avuto pietà e misericordia di me e mi ha tratto da quel baratro perché non facevo più stima della mia vita ha impedito che io ponessi fine alla mia vita e io non posso mai ridimenticare queste cose stanno dentro di me e ogni giorno vedo la sua mano nella mia vita io che cosa gli ho detto quando mi indico la via sì signore Gesù ti voglio seguire adesso che ti ho trovato ti voglio seguire non ti voglio lasciare e ti voglio confessare ad uno ad uno tutti quei peccati che mi hai fatto vedere qualche giorno fa gloria a Dio gloria al nome suo santo e il signore mi ha preso ogni giorno per la sua mano e mi guida sono tanti anni ringrazio il signore che sono ancora qui dove non dobbiamo ci sono delle cose molto più difficili di quelle che avevo io situazioni molto più difficili ma voglio dire veramente mettiamo tutto nelle sue mani perché noi non possiamo da noi stessi fare niente e lo voglio ringraziare con tutto me stessa ogni giorno lotarlo e glorificarlo a lui sia la lote e la gloria amén se c'è qualche altro ancora e poi cantiamo un cantico quello Natalino ci sei mancato questo periodo per il lavoro ti ha tenuto bloccato lì ma grazie a Dio stasera sei qui con noi grazie sorridente grazie pace a tutti voglio ancora ringraziare il signore tantissimo questa sera perché io chiedo perdone al signore perché questa settimana non sono dovuto venire perché lui sa il problema che ho avuto un po' per il lavoro un po' anche dei problemi che ho passato che dovevo fare dei giri però lo ringrazio tantissimo perché questa settimana il signore mi è stato tanto vicino gloria a Dio e lo ringrazio veramente proprio tanto 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 perché ho risolto dei problemi stando vicino a lui veramente e il signore è veramente buono perché quando quando vogliamo possiamo possiamo avere tutto da lui e io lo ringrazio veramente grazie a Dio che il signore questa settimana mi è stato vicino lo ripeto e ho risolto un problema grandissimo che avevo nella mia testa una settimana che non riuscivo a dormire e grazie veramente lo ripetono tantissimo grazie dobbiamo credere al signore veramente che lui esiste grazie signore grazie signore vogliamo cantare il 161 è stato chiamato io so che tu sei qui 161 io so che tu sei qui signore sento il tuo camminare ti muovi dal tuo popolo portando libertà io so che tu sei qui 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 sento il tuo camminare ti muovi dal tuo popolo ti muovi dal tuo popolo portando la libertà portando la libertà con la fede arriverò con la fede ti toccherò con la fede ti toccherò io so che tu sei qui io so che tu sei qui signore sento il tuo camminare ti muovi dal tuo popolo ti muovi dal tuo popolo portando la libertà io so che tu sei qui io so che tu sei qui signore sento il tuo camminare ti muovi dal tuo popolo ti muovi dal tuo popolo portando la libertà con la fede con la fede arriverò con la fede ti toccherò la tua azione ricevo e so che trasformata io sarò con la fede con la fede ti toccherò ti toccherò la tua azione ricevo e so che trasformata io sarò sia gloria sia gloria a Dio potete accomodarvi cari del Signore non voglio che facciamo tardi che andate a casa tardi sia benedetto il Signore che è qui con noi e questa è la cosa più importante credo che sarebbe una riunione inutile se il Signore non fosse qui io ringrazio il Dio perché prima la sorella Isabel mi stava dicendo una cosa personale che una decisione che ha preso ascoltando un culto e allora ho detto ma allora il Signore parla il Signore parla allora e quindi mi incoraggio anch'io ad andare avanti questa sera vogliamo insieme meditare su un fatto importante che troviamo in Seconda Re capitolo 4 dal verso 8 Seconda Re capitolo 4 dal verso 8 Seconda Re vi do qualche istante per trovare la parola ora venne che un giorno Eliseo passava per Sunen e c'era qui una donna ricca che lo trattenne con premura perché prendesse cibo da lei e tutte le volte che passava di là si riecava da lei a mangiare ed ella disse a suo marito ecco io sono convinta che quest'uomo che passa sempre da noi è un santo uomo di Dio ti prego facciamogli costruire di sopra una piccola camera in muratura e mettiamoci per lui un letto un tavolino una sedia e un candeliere affinché quando verrà da noi egli possa ritirarsi ritirarsi qui abbiamo l'esempio spirituale del cosa ha bisogno un uomo una donna di Dio dobbiamo riflettere in questo noi sappiamo queste cose ma è buono ripeterlo cosa ha bisogno un uomo una donna di Dio ancora oggi Eliseo dice la scrittura che passava presso una famiglia evidentemente la amava quando era in viaggio e lì si riposava e a un certo punto questa donna le donne sono sempre più avanti a volte degli uomini disse ma perché a suo marito perché non gli facciamo una stanza affinché quando lui passa il profeta io sono certa dice che è un uomo di Dio evidentemente lo trasmetteva in un modo glorioso facciamogli una stanza e mettiamo qualcosa dentro ed è bello questo all'ospitalità prima di tutto al tempo c'era tanto in questo di cultura ma la cosa importante sono questi arredi ora le nostre case sono arredate di più ma una volta erano molto semplici e vado veloce la prima cosa essenziale che c'è bisogno in una stanza quando si ospita qualcuno è il letto simbolo del riposo e allora fratelli e sorelle che vogliamo dire stasera che il Signore ci dice di anche riposare in Lui riposare nel Signore Gesù disse un giorno venite a me voi che siete stanchi e carichi ed io vi darò riposo oggi abbiamo bisogno tutti del riposo del Signore e mentre meditavo su questo mi è tornata la mente Giovanni dice scritto nei Vangeli che Giovanni posava il proprio capo sul petto di Gesù e io posso immaginare quanto è bella questa scena no? Giovanni che si riposava su Gesù ci vorrei stare anch'io è vero lui fisicamente era lì perché lo amava profondamente e quindi era un riposo per lui un rilassarsi sapete quando stiamo vicino a qualcuno che è agitato l'ho detto tante volte ma lo ripeto ci agitiamo anche noi ma se siamo vicini a qualcuno che è sereno e tranquillo noi riposiamo e così noi abbiamo bisogno del riposo del Signore riposo dalle da una coscienza per esempio che ci a volte ci travolge la coscienza che è quella parte dell'anima che magari ricorda anche il passato le cose del passato e che ricorda a volte le cose negative magari vorremmo ricordare le cose positive ma a volte ci ricorda le cose negative e noi dobbiamo dire Signore allontana quello che è stato è stato perché oggi siamo un nuovo giorno di grazia una nuova serata di grazia questo passato che a volte ci avvolge e a volte è bello a volte è meno bello ma noi non vogliamo cadere in questa trappola vogliamo dire noi ci protendiamo in avanti l'Apostolo Paolo si protendeva in avanti con le proprie mani con tutto se stesso per raggiungere il traguardo noi abbiamo un traguardo da raggiungere che è l'eternità con Gesù è vero saremo con lui per tutta l'eternità riposo in mezzo al tumulto della confusione della nostra società se questa parola era vera tanti secoli fa quanto è più vera oggi siamo in mezzo a una confusione totale Gesù dice Paolo ai filippesi dice non angustiatevi di nulla ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiera quindi quando noi siamo in questo mondo stiamo sempre pregando il Signore stiamo sempre invogando il Signore che ci diva ci dia quella tranquillità quel riposo io mi voglio riposare stasera con voi mi voglio riposare perché vi vedo belli tutti amèn in questa comunione fraterna riposo dalle continue lotte col proprio io il proprio nostro noi siamo a volte nemici di noi stessi l'io dice l'apostolo Paolo che vuole sempre risorgere la carne no che vuole tornare a galla ma la carne è qualcosa di deleterio qualcosa di negativo assolutamente voglia Dio aiutarci fratelli e sorelle a vincere il proprio io 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 diceva qualcuno che conoscevo anni fa io ho fatto questo io ho fatto quell'altro e si vantava e si vantava io ho costruito dei palazzi io 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 ma vedete fratello Fabio quanto è umile davanti a Dio eppure è una persona che si dà tanto da fare ma nella sua umiltà nella vostra umiltà io do gloria a Dio fratelli e sorelle mai nessuno di voi si è vantato di quello che fa fuori perché per grazia di Dio è vero che possiamo fare qualcosa siate benedetti fratelli e sorelle la seconda cosa essenziale è il tavolo simbolo della comunione il tavolo è il simbolo della comunione stasera non abbiamo un tavolo vero ma abbiamo una tavola spirituale imbandita dal Signore stesso perché Lui l'ha fatto lo fa ogni volta che ci riuniamo insieme e su questo tavolo che è spirituale ci sono cose spirituali e noi possiamo mangiare e bere in abbondanza fratelli e sorelle dobbiamo tornare a casa saziati dalla parola di Dio saziati dalla presenza di Dio non vogliamo andare a casa vuoti come siamo entrati altrimenti è una sconfitta mia e vostra prima di tutto mia ma questa sera vogliamo dire Signore riempi la mia vita gloria a Dio sono affamato diceva la sorella Giulia prima nella preghiera affamati assetati della parola di Dio e del Signore stesso vogliamo mangiare stasera vogliamo bere all'acqua viva fratelli e sorelle quindi è una un momento prezioso oggi l'abbiamo detto tante volte quando ero bambino io ragazzo la sera specialmente a tavola si stava tutti insieme adesso spesso nelle famiglie chi arriva prima chi arriva dopo voi perché il lavoro voi perché gli impegni e quindi non c'è più quella comunione oppure lo dico lo dico lo dico lo dico lo dico oppure eccolo qua oppure ho visto tante volte stanno a tavola e ognuno sta col proprio telefonino vero? ho detto una bugia? perdonatemi mentre si mangia col telefono abbiate pazienza c'è tempo per ogni cosa dice l'apostolo Paolo c'è tempo di comunione con il Signore c'è tempo di stare con Lui fratelli e sorelle ecco perché Maria ha sbagliato non è che ha sbagliato nel senso che non era buono preparare un pranzo per il Signore no ma c'è tempo Maria ha scelto la parte migliore stava ai piedi di Gesù e Marta invece era affaccendata e poi voleva che anche Maria andava con lei a fare da mangiare ma basta una persona ma comunque poteva anche lei mettersi ai piedi del Signore e poi preparare voi sorelle sapete che si può fare anche una cosa veloce viene ugualmente bene no? no non era disposta secondo me Marta no 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 era con la testa da qualche altra parte ma c'è Gesù stai ai piedi di Gesù stiamo ai piedi di Gesù ascoltiamo il Signore ascoltiamo la voce di Dio che parla al nostro cuore fratelli e sorelle la cosa la terza cosa essenziale lo sgabbello la sedia non potremo mai fratelli e sorelle farne a meno di una sedia mangiare stare in piedi è cosa magari sul lavoro perché si è costretti di stare così ma stare seduti per ascoltare noi stasera ci siamo seduti sì d'accordo ma ci siamo seduti proprio perché vogliamo ascoltarci l'uno con l'altro amenne ognuno ha la propria sedia spirituale e noi possiamo condividerci l'amore di Cristo diceva mio nonno cent'anni fa quando anche lì c'erano a volte delle discussioni e lui diceva basta noi siamo venuti in chiesa per condividerci l'amore di Cristo Gesù non altro fratelli e sorelle tutto il resto passa tutte le discussioni non hanno valore davanti a Dio se non sono guidate dallo Spirito Santo è vero fratelli e sorelle solo per lo Spirito noi possiamo dare qualcosa di buono quello che esce da noi dalla nostra bocca a volte è sbagliato e io lo dico per primo Signore perdonaci quando usiamo la lingua in modo negativo mi guardate capita da tutti di essere magari un po' pesanti nel proprio parlare no? o con le persone vicine o con i familiari con gli amici ma il Signore ci guardi e metta eh alla nostra lingua la propria un angelo che ci ferma un angelo che ferma la nostra lingua quando cominciamo ad esagerare fratelli e sorelle eh dobbiamo essere disciplinati e controllati una parola che mi veniva da settimane non l'ho detta e chiedo scusa autocontrollo ed è biblico l'autocontrollo che cos'è? è la capacità spirituale di controllare noi stessi ora faccio un esempio una macchina senza i freni dove va? a sbattere è vero così altresì se un cristiano una cristiana non ha l'autocontrollo di se stesso il signore ci mette l'autocontrollo noi andiamo a sbattere diceva il mio pastore quante musate a volte a volte fanno pure bene un po' di musate no? però possiamo anche rischiare di scivolare e andare a finire chissà dove in qualche burrone l'autocontrollo vogliamo essere controllati anche noi dice ma tanto il signore mi controlla si poi dopo magari io dico una parola fuori posto allora non mi ha controllato il signore sono uscito io dal seminato eh come si diceva una volta si esce fuori da quello che non è buono vogliamo essere veramente guidati dal signore controllati la quarta cosa essenziale è un candelabro la luce beh fratelli miei senza luce poco si sta in una stanza che fai? immaginate se adesso va via la luce speriamo di no eh signore va via la luce una volta è successo molti anni fa andò via la luce mentre svolgevamo il culto siamo rimasti un po' al buio avevamo una lampada di emergenza abbiamo fatto qualcosa abbiamo continuato e gloria a Dio ma d'altra parte cent'anni fa nelle campagne quando io ero ragazzo cent'anni fa non c'era la luce non c'era la corrente c'erano quelle lampade a petrolio eh eppure lì si dava gloria a Dio in quella stanza della mia campagna di mio nonno quanta gioia si sentiva ero ragazzo ma sentivo mentre i miei lo davano di Dio io sentivo qualcosa di bello e non c'era luce non c'era acqua corrente niente eppure si viveva in pace meglio da adesso ve lo voglio dire meglio da adesso dici fratello allora io non devo avere l'acqua a casa non devo avere la luce no 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 non dico questo ma sapete che il progresso mi fate dire una cosa che siete d'accordo il progresso a un certo punto è diventato un regresso perché siamo andati avanti 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 ci abbiamo tutto 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 troppo 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 e poi troppo e poi le persone vogliono sempre di più non sono mai contenti di quello che hanno io mi ricordo mio padre scusate se parlo della mia famiglia mio padre quando si metteva a tavola perché veniva dalla guerra e durante la guerra c'era la fame e lui un pezzo di pane se lo godeva con gioia era felice un pezzo di pane qualunque cosa gioia e dava gloria a Dio anche noi fratelli e sorelle torniamo alla semplicità quello che Dio ci dà sia gloria al Signore quindi il simbolo della luce io sono la luce del mondo dice il Signore io sono la luce del mondo voi siete la luce del mondo io sono dice il Signore ma voi pure siete la luce del mondo quindi noi abbiamo una responsabilità di fronte alla società di portare la luce di Cristo amen la luce di Cristo nel posto di lavoro so che lo fate che parlate del Signore ed è importante questo fratelli e sorelle continuiamo a farlo anche se la gente non ci ascolta abbiamo detto ultimamente la gente non ascolta più tanto dice ma lascia stare non mi interessa questa e quella ma noi continuiamo senza importunare le persone ma al momento giusto diamo la parola giusta secondo la parola di Dio amen gloria a Dio e allora fratelli e sorelle vado alla conclusione per non ripeto stancarvi quindi abbiamo bisogno del riposo e il riposo lo troviamo in Cristo in Cristo abbiamo riposo no 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 e sì magari possiamo trovare riposo con qualcuno che ha un carattere tranquillo ma è sempre una cosa così diciamo bella la condivisione l'uno con l'altro ma il vero riposo ce lo dà il Signore è vero al popolo di Israele il Signore gli ha detto ricevete ricordate fate riposatevi riposatevi ecco perché quando erano nel deserto ogni tanto c'erano delle oasi di riposo Signore io so che ci sono molti che ci seguono e che dicono fratello sorella sono stanco stanno arrivando tanti messaggi di questo sono stanchi tanti ma tanti vi assicuro vogliamo dire Signore interveni tu e dai riposo 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 e il riposo si ha con la benedizione del Signore gloria a Dio riposo non è dormire no dormire no risvegliati o tu che dormi risorgi dai morti e Dio ti inonderà di luce scritto dobbiamo essere svegli ma altresì riposarci nel Signore comunione si gode con Cristo e l'uno con l'altro prima la comunione è verticale verso su ma si manifesta anche in orizzontale io amo il Signore una frase che ho detto tante volte e l'ho sentita tante volte io amo Dio io amo il Signore per carità però al fratello mi antipatico come funziona eh sì dice no con quel fratello con quella sorella non riesco ad andare niente d'accordo ma insomma c'è qualcosa che non funziona perché se amiamo il Signore dice Gesù come fai a dire che ami Dio e poi non ami il tuo fratello che vedi Dio non lo vedi e lo ami e il tuo fratello o la tua sorella che vedi è un controsenso Signore aiutaci a tutti quanti ma io qui non devo forzarvi perché c'è tanto amore e siamo attenti mi raccomando occhi aperti spirituali perché il nemico va seminando nottetempo la zizzania ma noi vogliamo dire esci fuori nel nome di Gesù è vero da questa comunità sapete una cosa devo dirlo le chiese sono attaccate adesso più che mai dal nemico perché vuole distruggere l'opera di Dio lo sapevate? sì sono attaccate attaccate spiritualmente in ogni maniera se lui può distruggere una chiesa ha vinto ha fatto una gran una gran cosa ma il Signore non lo permette perché noi siamo con lui con il Signore l'istruzione l'istruzione si riceve da chi? dal pastore no? fratelli miei io posso dare quello che vi do che ho di più non ho ma soprattutto si riceve da Cristo l'istruzione perfetta è da Gesù Cristo è vero? lui non sbaglia io posso sbagliare posso avere un momento e dico una frase una per un'altra ma lui non sbaglia una parola fateci caso adesso mi viene in mente nei Vangeli quando lui annunciava parlava non c'è una parola fuori posto non ha mai sbagliato il Signore gloria a Dio allora abbiamo un grande Signore poi la testimonianza per Cristo ora fratelli e sorelle testimoniamo del Signore quando è possibile come è possibile senza stancare le persone lo ripeto ancora una volta non facciamo lunghi discorsi alle persone perché già sono stanche di mente altrimenti non vi seguono ma poche parole guidate dal Signore calde che è di quel calore cristiano allora quelle parole possono entrare in un cuore anche se è confuso è pieno ma possono entrare perché lo Spirito ci guida amen e che il Signore sia lodato e benedetto in eterno per sempre fratelli e sorelle perché il Signore ci sta provvedendo giorno per giorno ogni cosa alziamoci in piedi gloria a Dio alziamoci in piedi e diamo gloria a Dio gloria al tuo nome Signore alleluia 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 gloria a te Signore alleluia alleluia gloria a Dio gloria a Dio gloria al tuo nome Signore amen 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 grazie Signore ti ringraziamo Signore stasera con tutto il cuore ancora una volta perché siamo arrivati probabilmente un po' stanchi o quant'altro ma tu ci hai scaldato il cuore stasera e possa la tua parola non la persona che ha parlato ma tu stesso continuare a parlare al nostro cuore e ricordarci ciò che abbiamo ascoltato Signore come si diceva una volta incidi la tua parola nei nostri cuori per lo Spirito Santo incidila come Mosè sulle tavole aveva fatto delle incisioni dei dieci comandamenti così la tua parola sia incisa nei nostri cuori rimani con noi accompagnaci alle nostre case noi ti diamo la lode e la gloria in Cristo Gesù che è benedetto in eterno amen amen un cantico cantiamo un cantico va cari gloria a Dio ce l'avete un cantico Dio ha fatto sei grandi va cantiamo 149 149 Dio ha fatto cose splendide per noi e noi siamo nella gioia Dio ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia tanto grandi più del cielo su di noi e ora siamo nella gioia siamo uniti l'uno all'altro e siamo suoi per l'eternità alleluia mi stupisce la sua grazia perché so che non meritavo nulla così giorno dopo giorno salirò verso il cielo e la sua gloria e con gli occhi della fede sono lì che contempo il suo splendore mi è bastato solamente dirmi sì e da rendermi al suo amore Dio ha fatto meraviglie per noi e noi siamo nella gioia ora vivo veramente grazie a Lui e che Lui è la mia gioia sono son suo figlio erede dell'eternità la mia vita mi appartiene e nessuno al mondo mi separerà da colui che mi vuol bene perché ha fatto cose grandi per noi e noi siamo la gioia gloria gloria a Dio è stato un culto vibrante un culto benedetto dal Signore ringraziamo il Dio perché quello che fa Lui è buono ci vediamo domenica domenica è un giorno per noi in realtà è sempre Natale non è che vogliamo polemizzare con nessuno ma è sempre Natale per noi e grazie a Dio qualcuno la sorella Isabel fratello Natalino hanno sposticipato partono dopo il culto quindi ecco veniamo domenica per dare gloria a Dio va bene ecco il Signore ci benedica pace a tutti pace pace del Signore pace a coloro che ci hanno seguito parecchi stasera gloria a Dio grazie e noi diciamo a tutti quali pensi che non so come sappiamo se non so se è possibile ma non so se va bene che sarà un po' e non so grazie 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 grazie